Ciao ragazzi, oggi prepariamo il burro di limone, non è un raddler, il raddler è un burro e il soda di limone, ma sarà un burro di vera davvero, con il gusto di limone. Per preparare questa ricetta necessitano 1250 grammi di barbella, usare il burro di pizzer, due grandi limone, usare solo il vino, non il buio, perché il buio è troppo acido, quindi non vogliamo sbagliare il nostro burro, quindi solo il vino, 200 grammi di zucchero, 14 grammi di pop, e l'acqua, e naturalmente l'acqua, necessitano 9 litri di acqua, ora metto 5 litri in questo buio, ora metto l'acqua, quando l'acqua ha raggiunto la temperatura di 50 celsius gradi, possiamo aggiungere l'acqua, l'acqua, e dopo che ancora continuiamo con l'acqua, dovremmo raggiungere la temperatura di 68 celsius gradi, raggiungere questa temperatura, offre la stocca, copriamo con l'acqua, e aspettiamo 16 minuti. ... 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 in questo modo non lo farà dentro, dobbiamo mantenere solo l'acqua. Dopo aggiungerò le 4 litri di acqua che ho menzionato al principio, e ora sono arrivati a una temperatura di 78 C. Poi mettiamo l'acqua dentro, copriamo e aspettiamo 5-10 minuti. Dopo aggiungiamo il wharf, o l'acqua, come ti piace di chiamarlo, dentro il fermento. Dopo aggiungo tutto il burlino e mettiamo ancora il nostro futuro vino dentro il poto. E dopo aggiungiamo l'acqua, ma vi mostrerò l'acqua. Prendete attenzione che il fermento deve essere abbastanza forte per supportare la temperatura alta. Se non, sarà menzionato. Quindi questo può mantenere fino a 70-80, credo. Quindi se il plastica è buono, non lo preoccupare. Naturalmente, farò questo nel basso. Se non, la mia madre in l'alto mi ucciderà. C'è me... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Now we should put our worf on the stove again, when the worf starts boiling we can add the hop. The hop should boil with the worf 60 minutes, but after 55 minutes we peel one lemon, we put the skin of the peel inside and we cover with the lid. Now we will boil it without covering, but about the lemon I'll show you later. Here we go. 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 Okay, after 55 minutes only with the hop, plus 5 minutes with the skin of the lemon, our worf is ready. So now we should put the pot in the basin with the cold water because we want to drop down the temperature of our future beer. after, when we reach the room temperature, we will take half glass of worf and we will add 5 grams of brewing yeast. And after we put the sugar and the skin of the lemon in the fermenter with the worf, we mix everything very well. And after we take a little beer again of our worf to check the initial gravity. in this way, we will know the alcohol contained of our beer. And theôle of beer. In this way, we are very much also in the moment of water. in that moment, we'll talk about the water. And if there are the water, we can put the water down. And we do not breathe. And if we throw it in the water. And the water is done. And we have water to drink some of the water. And we need water to drink some of water. Now we do not breathe, so much water and drink. Grazie. Grazie. Ora che abbiamo una cassa di wharf possiamo mettere 5 o 6 ronde di brio in l'estero, lo copriamo con un prodotto plastica e vediamo che la fermentazione comincia. Perché ora è dopo la midnight, quindi andrò a dormire, e mettere l'estero dentro il fermento domani. Quindi, vi vediamo domani domani. Ciao, ciao. Buonanotte. La gravità iniziale è di 1.040. La gravità iniziale è iniziale. La gravità iniziale è iniziale. Iniziale. We check that the airlock is working. Inside the airlock, I put some liquid. In this way, if it falls down inside, we can drink it. No problem. We will see you in 12 hours to check our fermentation. After 12 hours, the fermentation is running very fast. You can see directly from the foam on the top. If you have the airlock, you can see the balls coming out. Now, I will put my fermenter in the basement. because the best temperature is 20 Celsius degrees. And see you at the end of the fermentation to put our beer in the bottles. After 7 days, the fermentation is complete. You can notice from the airlock, that is already at level, that the foam disappears. Now, we can put our beer in the bottle. But before, we should add 4 or 5 grams of sugar, every half liter. In this way, the beer will be sparkling enough to do this in the easy way. I will use the one for the coffee, that they are already 4 or 5 grams each one. So, I put one of these each bottle and after we add the beer. Ah, sorry, remember to remove the airlock before opening the tank. So, I have to pick all the beer, which is also a little drink. Oh, I feel like it's beautiful. I know it's a lot of beer. We are making the beer in the mouth of the bottle. I'm eating hot powder. Now I will try and eat the beer. I want to eat the beer. You can eat it. I can eat the beer. I recommend cooking it and then I will use. This is my fast food. It needs to be quite the beer. I want you to use the beer. ricordatevi di controllare la gravità finali, in questo modo possiamo sapere l'alcol contenente. I'll go ahead putting the beer in the bottle, ricordatevi che puoi ottenere l'east che è in the bottom of the fermenter and you can use for the next fermentation. After I will tell you also how many liters of beer we get with these ingredients. With this ingredient we get six liter or six liter and a half of beer, now we should wait that the beer refermented in the bottle because now we add the sugar and after we can test it, but before we want to check the alcohol contain. The final gravity is 1006, so we should calculate 1040 less 1006, we get 34, we divide 34 for 7.5, we get 4.5 plus 0.5 because the sugar in the bottle will ferment again, so we'll get more alcohol. the final outcome content would be 5%. Good. Good. 3. Remember that it's not a radler beer plus lemon Soda, but this beer with lemon.... So you can taste the beer, plus at the end the taste of the lemon. Ok ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di guardare tutti gli altri video, se avete alcune questioni, lasciatemi sapere, se lo provate, lasciatemi sapere, ciao ciao!